La grandispensa 40 semiprofessionale è una macchina sottovuoto di alta qualità, costruita con materiali resistenti come l'alluminio anodizzato. Questa macchina è stata progettata con un occhio attento per i dettagli tecnici e offre una soluzione efficace per molteplici esigenze di confezionamento. Grazie alla sua tecnologia di aspirazione esterna, la grandispensa 40 semiprofessional può adattarsi a una vasta gamma di situazioni di confezionamento. I suoi cicli di saldatura diversificati includono opzioni specifiche per prodotti morbidi come pane e formaggio, così come per prodotti secchi che possono anche contenere piccole quantità di liquidi, come gocce di sangue nella carne o tracce di latte nella ricotta. Per garantire la massima pulizia e igiene, tutti i residui liquidi vengono raccolti in una vaschetta appositamente progettata, che può essere facilmente rimossa per la pulizia. Inoltre, questa macchina è dotata di sofisticati algoritmi, tra cui uno per il rilevamento di utilizzo intensivo, che intervengono per preservare l'integrità della macchina quando necessario, e un algoritmo di regolazione automatica delle saldature che assicura saldature uniformi e consistenti. La grandispensa 40 semiprofessionale è un investimento sicuro per chi cerca una macchina sotto vuoto professionale e affidabile, in grado di soddisfare le esigenze più diverse con efficienza e precisione. Grazie a tutti!